Frate e benvenuti in questo nuovo shop o passo di Marvel's Snap Prima variante Electra di 3099 A me non mi sento e non piace, è bella la luna Meglio lo sfondo che Electra, quindi passo Titania di The Nip è veramente un abominio, passo The Nip oggi ci regala solo merda, passo Storm di Jim Lee, tutta argentata ragazzi Mega fregna, mega shop Clue di The Nip è al limite tra lo shop e lo passo Però passo, oggi shop impestato di The Nip Però questo Deathlock qui è molto figo Questo lo shop Una delle migliori varianti di Red Skull ragazzi Questo Red Skull di Riccione non è né passo né shop Questo è godo Chiudiamo con una fregna rara questa Iron Heart qui è da shop Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale